Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Gamebusters, siamo ancora su Red Dead Redemption. Allora siamo nel nostro accampamento con la nostra stelletta da vice sceriffo e ci abbiamo Molly che ci vuole parlare. Un errore in buona fede. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ottimo. Va bene, va bene. Andiamo a fare la missione di questo parso. Che tra l'altro ci ha interrotto, stavamo facendo un discorso importante con la fidanzata di Dutch. Ma andiamo. È la prima missione con Zio. Ma noi a Rhodes tra l'altro non dovremmo fare casini eh. Allora, rapidamente la bandana. Allora, indosso la bandana ok. Va bene. Andiamo. a presto. Stop the wagon! Mi ha detto stop the damn wagon! Wow! Oh, no! No! Non si chiudere qualcosa stupido! E noi non faremo nulla cosa. Voi, ragazzi, non... Non voglio farlo. Ma questo è un errore. Io lavoro per Cornwall, Kerosene, e Tar. Mr. Leviticus Cornwall. Oh, bravo. Quindi, voi... Non lo so. Voi sento che è pieno di riuscire per comprare la città e non perdere molto. Oh, non lo so. Ok. Voi senti a guardare la città. Arthur, aiuto qui. Andiamo, dai. Ok, c'è un canno. Ok, vediamo cosa è dentro. Ok, vediamo bene. Deve essere vicino a 1,000 anni. Ah, secondo me da ci si incazza, comunque. Hey! Credo di vedere qualcosa! Oh, bravo. Andiamo, Arthur! Andiamo, Arthur! Yeah! Get back here! Andiamo, Arthur. Andiamo con questo cavallo velocissimo. Oh! Andiamo, 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 andiamo. Allora, andiamo. L'abbiamo già seminato? No, 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 ecco dì. Dai cavallo, su mamma mia che lentezza. C'è il cavallo, su mamma mia! Mamma mia, che lentezza! Perfetto Questa è stata l'occasione perfetta No Ci seguono ancora Ma non ce la fa proprio il cavallo Maledizione Ok 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 Andiamoci Dai che sei lentissimo Ok Aspettiamo che si faccia notte Allora Allora Let's try and get out of here Hey Absolutely Now shut up old man Look I was just trying to Shut up There's a light Over by the house Damn Hmm Allora Let's just keep this calm See what happens Hey no Hey no No O ci vengono a cercare Bene Una brutta situazione eh Noi tra l'altro teniamo pure la stelletta di sceriffo No infatti non c'è nessuno No infatti non c'è nessuno Perfetto Ok Ok torna indietro No cazzo Che combinato No Dai proviamo a non questo fucile Ok In fronte proprio Perfetto D'ai Perfetto Perfetto Dove stai? Dove stai? Ah, sta ancora qua, sei stronzo Ok, andiamo di qua Per quanto? Ok Arrivando dovunque, mannaggia Perfetto Tanto sta prendendo fuoco tutto qua Ma dove sono spugati tutti questi? Vorrei capire Cazzo Come ce ne andiamo? Andiamo da qua Dai, 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 andiamo Andiamo, 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 andiamo Ok Ok Eh, dai, andiamo, su Eh, dai, muoviti, cazzo Ok Mi pare di vicino a Zero Dove è venire in silenzio Quindi mi ha in silenzio col coltello, credo Vedete qualcosa? Non ancora Perfetto Eh, che cazzo Eh, che cazzo Ok Ancora niente Mannaggia Andiamo Ok andiamo avanti nessuno maledizione perfetto è andata? ok ci siamo messi di nuovo nei guai penso che dacci vediamo un po' come è andata abbiamo preso il bronzo come al solito salva zio dal nemico che l'ha sopraffatto e non mi premeva praticamente esegui 20 colpi alla testa ma penso che ne avremmo fatti tipo 17-18 completa la missione con una precisione inferiore all'80 completa la missione senza usare oggetti che ripristinano la salute quota della banda 450.000 quota di Arthur 112.000 ok quindi abbiamo fatto un bel bottino perfetto ok ragazzi allora io mentre mi sgraffigno un po' sti cadaveri direi che con questo appuntamento possiamo salutarci qui mi raccomando se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale lasciate 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 un like iscrivetevi lasciate iscrivere i vostri amici noi ci vediamo con il prossimo appuntamento sempre qui su Gamebusters ciao a tutti ragazzi ciao a tutti 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 Grazie a tutti.